Siamo notati Gesù e Maria, amici e amiche carissimi, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata al mistero dell'uomo, in cui questa sera si affronta un altro spinoso problema che potremmo definire il fratello gemello di quello affrontato la volta scorsa, anch'esso molto delicato, ossia il problema della predestinazione la volta scorsa, della giustificazione oggi. Sapete che tutti sanno più o meno, chi ha studiato un pochino a scuola, chi c'è anche un minimo di cultura teologica, che a causa di questo tema si è scatenato in finimondo ai tempi della rivoluzione dell'eresia luterana, perché come vedremo, Lutero stesso disse che il tema della giustificazione lo chiamava proprio testualmente articolo di fede su cui sta in piedi o cade tutta la chiesa, secondo lui. Non è ovviamente così, perché la giustificazione è un tema importante, ma non quello decisivo, ma tanto questa sera speriamo di arrivarci, anche a Lutero vedremo la sua modalità certamente non corretta e non equilibrata di approccio a questa tematica. Ora, che cos'è la giustificazione? È la, di fatto, è l'attuazione storica e concreta della predestinazione. San Paolo scrive nelle sue lettere, quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere all'immagine del figlio suo. Quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha giustificati e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Quindi i predestinati sono chiamati alla fede, quindi a battesimo, attraverso il battesimo avviene la giustificazione, come vedremo, l'emozione del peccato, l'infusione della grazia e attraverso questo può raggiungere la gloria, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati, cioè realizzare l'obiettivo diretto della predestinazione, perché la predestinazione la prima volta scorsa è solo alla grazia e alla gloria, non c'è nessuna predestinazione alla dannazione da parte di Dio, quella ce la scriviamo con le mani nostre, Dio non c'entra niente su questa cosa qui. Ora, noi avremmo dovuto nascere come figli di Dio, essere concepiti come figli di Dio, non diventare figli di Dio, se tutto fosse andato come dovrebbe andare, l'angelo di San Giovanni si legge che a quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, perché sono quelli che non sono nati da sangue, corretto sarebbe dire come abbiamo visto a suo tempo nelle catechesi del peccato originale, perché questo è scritto in greco, non sono nati da sangui, non soltanto da sangue, inteso come sangue blood insomma in inglese, quindi il sangue che scorre nelle nostre vene, ma erano i due sangui ritenuti chiaramente dall'antropologia classica, il sangue bianco maschile e il sangue rosso femminile, cioè capire tutti a che cosa si fa riferimento, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati, quindi la concupiscenza, quindi il concepimento da volere di carne non è assolutamente possibile e possa essere fatto senza colpe, quindi non si può nascere di figli di Dio, anzi si nasce macchiato dal peccato originale, quindi di figli di Dio ci si diventa. Ovviamente anche la tematica della giustificazione poggia su un'iniziativa libera e gratuita a noi offerta da Dio, perché Dio non ha assolutamente tenuto a fare nulla di nulla, l'uomo e ha peccato in Adamo e aggiungendo ciascuno il proprio carico al carico dei peccati del mondo, poteva tranquillamente dire hai voluto questo e questo ti viene, quindi fine della trasmissione non ci sarebbe stato assolutamente niente da obiettare e niente da dire, quindi quando si parla a volte un po' troppo e a sproposito di misericordia, questa è la misericordia, cioè che Dio interviene, decide di salvare e dà lo strumento per l'antanomatica del nostro Signore Gesù Cristo e poi gli strumenti di salvezza per un atto libero e gratuito della sua volontà e assolutamente immeritato da parte nostra, perché quello che l'uomo medita dopo il peccato non è certamente il salvatore ma è altro, quindi che si prenda le conseguenze del suo peccato e che quindi il resto, diciamo così, concludete la frase voi che state ascoltando, uno vi dirà da fare la brutta fine che si è andata a cercare, tutto qui, ecco molto semplicemente, quindi la misericordia di Dio è da concepire in questa prospettiva. Ora, nella Sacra Scrittura, vado abbastanza veloce, la dottrina della giustificazione nell'Antico Testamento è preparata dal concetto biblico di alleanza, ci sono tante alleanze nell'Antico Testamento, l'alleanza fatta con Noè dopo il diluvio, l'alleanza contratta con Abramo attraverso la circoncisione, l'alleanza stipulata con Mosè, il patto tra Dio e il suo popolo, dice, tu ti erano fuori dall'Egitto, sarò sempre con te, tu da parte mia, osserva la tua legge. In ogni caso, in tutte quante queste forme e manifestazioni delle alleanze successive avventurotestamentarie, c'è un minimo comune denominatore, cioè Dio perdona le colpe del suo popolo, lo assolve, lo purifica, pensiamo per esempio ai grandi riti cosaici, il rito di Yom Kippur, il giorno del perdono, eccetera, e quindi attraverso questo processo avviene la cancellazione dei peccati, ossia la loro distruzione. E attenzione che tutto questo ha funzionato nell'Antico Testamento, anche se nel Nuovo, nella lettera agli ebrei, si legge che il sangue di Toria di Agneri non è che possono giustificare nessuno, ovviamente assolutamente parlando, ma nell'economia antica, fino a quando il Signore ha fatto, come dire, passare, diciamo così, l'umanità attraverso questo stadio intermedio, quindi, perché la storia della salvezza è stata un'iniziativa attuata fino al corso della storia, quindi necessariamente caratterizzata dai caratteri della gradualità, in mezzo al marasma che si era creato, no? Quindi prima la rivelazione del monoteismo assoluto, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, si fa una storia di salvezza con un popolo etnico ben determinato, attraverso degli strumenti che di per sé non sono salvifici, perché il sangue di Toria di Agneri non salva nessuno. San Tommaso da Guino spiega benissimo che l'efficacia, tra virgolette, salvifica di quei riti era, traeva la sua efficacia da cosa? Dal fatto che essi erano prefigurazione tipologica di quello che sarebbe stato il sangue del vero Agnero di Dio e che toglie realmente i peccati del mondo, no? Vabbè, non mi dilungo troppo su questa cosa perché per approfondirla adeguatamente ci vorrebbero due o tre lezioni soltanto su questo, quindi basta avere un po' una focalizzazione essenziale. Ora nel Nuovo Testamento, questa purificazione dei peccati, già detto e accennato, viene realizzata attraverso, certo che il sangue, un bagno di sangue, ma non il sangue di un animale ragionevole, ma il sangue del figlio di Dio fatto uomo, versato attraverso la passione e morte. E' bene andare a leggere, perché questi poi saranno i cavalli di battaglia uterani, il testo fondamentale, relativo alla tematica della giustificazione, è tratto ovviamente dalla lettera ai Romani, sapete che Lutero è campato con lettera ai Romani e con e con lettera ai Galati, purtroppo. Quindi dobbiamo andare a prendere adesso Romani, capitolo terzo, e andare a vedere i versetti che ci interessano, che dovremo ovviamente andare a scandagliare, a scandagliare Romani 3, 21, 31, just the moment, ok. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù per tutti quelli che credono, e non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati, vedete il termine, gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia dopo la tolleranza usata verso i peccati passati, nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Dove è stato dunque il vanto? E se è stato escluso? Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. Forse è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche dei pagani? Certo, anche dei pagani. Poiché non cerca un solo Dio il quale giustificherà per la fede i circoncisi e per mezzo della fede anche i non circoncisi. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Niente affatto. Anzi, confermiamo la legge. Già ascoltare questo brano, presumo che chi l'ha ascoltato capisca che non è un brano, non è un romanzo o un fumetto che uno se lo può leggere così e capisce subito tutto. No, è un testo molto profondo, molto articolato, non di semplice comprensione. Si usano categorie ideologiche molto importanti e purtroppo facilmente travisabile se non si colgono alcuni passaggi. Per esempio, quando San Paolo certamente dice noi riteniamo che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. Punto prima bisogna capire cosa sono queste opere della legge. D'accordo? Perché le opere della legge si intende tutto il complesso di norme molto elaborato, vetro testamentario, in parte certamente contenuto nella Sagra Scrittura, in parte poi a modi molto ampliati, rivedute e corrette come Gesù stesso lamenta nei Vangeli da parte degli interpreti e dei cosiddetti dottori della legge e farisei. Sulla base del principio, chiunque compie tutte quante le opere della legge viene giusto e quindi può accedere alla salvezza. Questa era un pochino, sto semplificando assai, diciamo così, il contesto. San Paolo dice no, no, non funziona così, perché la giustificazione non è una cosa che dipende dall'osservanza di una serie di prescrizioni, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della retenzione realizzata da Cristo Gesù. Se non ci fosse stato il versamento del sangue di nostro Signore, quindi la riconciliazione con Dio, che tu devi necessariamente fare tu attraverso il battesimo, tu puoi compiere tutte le opere della legge che te pare, puoi staffare tutte le penitenze che vuoi, puoi fare tutte quante le opere sante che vuoi, ma la salvezza non la puoi raggiungere. E quelle cose non possono mai in nessun modo cancellare nel peccato originale, nel peccato attuale, che ti rimangono come debiti insoluti ed insolubili, se nostro Signore non avesse versato il sangue per te. La gratuità della giustificazione deve essere concepita in questo modo, cioè è un atto di riconoscimento doveroso del fatto che una volta che l'uomo si mette nei guai, e lo ha fatto con il peccato, ti metti nei guai con le mani tue, ma non ne puoi uscire con le mani tue. Cioè, la realtà del peccato, sia originale che attuale, è come se tu varchi una soglia, apri una porta e vai oltre, dopodiché però la porta ti si chiude dietro, e tu indietro non ci puoi tornare, non è possibile. Quindi, varchi una soglia, tu sei spacciato, e non ci puoi fare niente. Anche tra di noi cattolici voglio proprio vedere, vorrei tanto essere così curioso, di verificare che ci crede veramente a questa cosa. Perché per questa cosa, noi dovremmo stare solo per questa cosa, tutta quanta la vita in ginocchio, prostrati con la faccia a terra, a ringraziare il Signore e a cantare in interrotti magnifica. Perché senza il suo intervento, noi eravamo tutti perduti. Ora, vedete come fanno gli eretici che leggono sempre le cose in parte, no? Queste affermazioni però vanno lette, ma pensiamo all'ultimo versetto che abbiamo visto. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? No! No! Anzi, niente affatto, meglio. Anzi, confermiamo la legge. Come dice Gesù nel Vangelo, non crediate che sia venuta a pulire la legge, ma dare complimenti a chi e chiunque osserverà questi procetti, anche minimi, insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli, e chi invece gli trasgredirà e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Massimo e minimo. Ecco, quindi come vedremo nella dottrina cattolica, l'uomo giustificato, quindi l'uomo peccatore, non può compiere, non può compiere niente di naturalmente e umanamente buono, questo no, ma non può, come nessuna delle opere che compie, gli meritano la salvezza, perché se non ha la giustificazione e la grazia, quelle opere hanno soltanto un valore, come dire, contingente, temporale, transeunte, umane, e se sono buone certamente Dio le ricompensa, ma la ricompensa è in maniera adeguata, è un'opera buona, umana, te la ricompensi in modo umano, quindi attraverso premi che sono quelli legati alla contingenza e alla transitorialità della vita presente, quindi beni, materiali, salute, soldi, beni e divertimenti leciti, eccetera, di modi con cui il Signore premia il bene naturale, ma quelle opere buone non possono in nessun modo, lo vedremo, meditare la vita eterna. Quindi questo testo è un testo fondamentale, ecco, andiamo adesso a vedere, come dire, un pochino una sintesi, prima di introduci, della dottrina paolina, perché poi il tema della giustificazione abbiamo, ci ho citato a memoria un testo precedentemente, abbiamo letto questo passaggio fondamentale della lettera dei Romani, è chiaro che se non è andato a leggere tutti e quanti i passi di San Paolo sulla giustificazione, non solo facciamo notte durante questa catechesi, ma dovremmo tornarci e commentarli a tempo indeterminato, quindi non è possibile, quindi una sintesi della dottrina paolina sulla giustificazione si può appunto formulare in questo modo, anzitutto la radicale incapacità dell'uomo, l'uomo non può salvarsi con le sole sue forze, questa è una cosa fondamentale, fondamentale, questa è la quintessenza della dottrina cattolica, ed ecco perché bisogna annunziare a tutti il Vangelo e invitare tutti quanti a farsi battezzare, perché la salvezza non te la puoi dare da solo, tu non te la puoi dare da solo, cioè il grande delitto che è stato fatto negli ultimi secoli e che adesso si sta consumando in maniera sempre più forte, è proprio la pretesa prometeico-superomistica, anni passati con un po' questi termini un po' tipici, io di te non ho bisogno, non ho bisogno di nessun cristianesimo, non ho bisogno di nessun Dio che mi salva, non ho bisogno di nessun Salvatore, sono io attraverso la grande intelligenza illuminata a capire le cose e poi a metterle in pratica e quindi a fare quello che si deve fare senza bisogno che ci sia chi mi imbocca o chi mi salva o chi mi tira fuori, perché faccio da solo, detto proprio in parole poveri, questo è cominciato, questo incubo, un mezzo è cominciato, si è manifestato in forma violenta e palese con la rivoluzione francese, ma poi è stato ereditato da tutte quante le dottrine e le ideologie ottocentesche e adesso poi è passato nei programmi massonici, mondialistici, che sono già ampiamente navigati e in atto, quindi sapete che dentro questo orizzonte le religioni sono tutte buone, sono affari tuoi personali, tu pensi che Dio è Gesù Cristo? Benissimo, tu pensi che Dio è Confucio? Non credo che il Confucio sia, però tu pensi che Dio è Allah? Tu pensi che Dio è... va tutto quanto benissimo, d'accordo? L'importante è che tu sei disposto a riconoscere che al di sopra e al di là la tua credenza personale sia qualcosa di più grande e universalmente valido a cui fare riferimento, no? Questa sorta di Dio impersonale o di grande architetto, quindi che poi attraverso, come dire, l'intelligenza che capisce tante cose, tu poni in essere, fai leggi buone, fai le norme sante, garantisci i diritti a tutti e costruisci un pianeta Terra bellissimo e meraviglioso dove tutti erano felici e contenti, poi la morte, vabbè, la morte facciamo come diceva Epicuro, no? che quando c'è la morte non ci sono io e quando ci sono io non c'è la morte e è finito il problema, finito il discorso. Ho semplificato in maniera proprio che se mi sente qualcuno di quelli che conoscono tante cose c'è un pericolo che a Roma si dice me gonfia, ecco, quindi è una semplificazione molto molto consistente, credo però sufficiente per far capire la questione, no? Ecco, quindi San Paolo la prima cosa che dice è numero uno, noi non ci salviamo da soli, c'è una reale e radicale incapacità dell'uomo, secondo, come già accennato, proprio per questo unico fondamento della giustificazione è la misericordia di Dio, perché prima che essa, come dire, parta, si esplica e ci raggiunga, non ci sono nell'uomo opere adeguate per meritarle, non ci sono, cioè le opere compiute da giustificati, ce l'ha spiegato San Paolo in quel passaggio che ho citato, ci rendono meritevoli, eh, attenzione, del paradiso, perché attenzione che l'uomo giustificato, l'uomo che agisce in grazia, e tu fai un'opera buona compiuta in grazia di Dio, quella opera, il paradiso, te la merita. Si dice poi in teologia, credo che più avanti tratterò anche di questo tema, che è un merito, tra virgolette, nel senso che essendo sempre un merito dipendente, dalla grazia di Dio gratuitamente conferitati, non è un merito decondigno, si chiama così tecnicamente, ma un merito decongruo, quindi, cioè, Dio te lo considera come se fosse merito tuo, e lo tratterà così, pur sapendo che è merito tuo, in parte, perché senza la grazia di Dio non avresti combinato nulla, e la grazia di Dio non è merito tuo, ma è merito suo. Però, ripeto, la retta comprensione della misericordia di Dio è questa, cioè, stante la radicale incapacità dell'uomo di salvarsi, e quindi di compiere alcuna azione utile alla salvezza, nella sua misericordia, Dio è intervenuto, ha mandato suo figlio a morire e a patire per noi, perché potessimo essere salvati. Quindi, terzo punto della dottrina paolina sulla giustificazione, è che è Gesù, è Gesù Cristo che ha compiuto un'azione salvifica che produce degli effetti reali nel giustificato, perché l'agnello di Dio toglie i peccati del mondo. Il peccato, con la P maiuscola, che è il peccato originale, è i peccati del mondo, li cancella. D'accordo? Wipe out, blot out, dite come voi pare, di proprio non ci sono più. Come? Dove? Nel suo sangue. Questo punto è fondamentale, perché come vedremo, secondo Lutero, che la giustificazione, la giustificazione, la giustificazione, l'articolo su cui sta in piedi oppure cade la Chiesa, lui lo concepisce in un modo che tutto è meno che giustificazione, perché il termine latino giustificare, vedete che la gente cosa significa? Significa giustum giustificare, giustum facere, cioè fare giusto, rendere giusto, ma una cosa che dice Lutero è che tu giusto non ci diventi mai, è possibile, rimani radicalmente peccatore. Come sapete, questa antropologia eretica, del tutto sballata, oggi è molto in auge, anche in ambienti cattolici, anche in movimenti ecclesiali, cattolici. peccatore, 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 equivocando su questo termine, perché, come sempre, bisogna fare chiarezza, è chiaro che siamo tutti, cioè la Chiesa non ci fa dire le bugie, quindi, se non all'inizio della Messa diciamo, molto peccati, pensieri, parole, opere, missioni, diciamo la verità, se prima di fare la comunione diciamo, signori, non sono degni di partecipare alla Tomenza, diciamo la verità, però, però, un giustificato, ognuno che ha commesso tutti i giorni, che quindi si presume faccia anche la comunione tutti i giorni, certo che è peccatore, molto peccato, in pensieri, parole, opere, commissioni, ma non, al modo con cui lo è, un pagano peccatore, sia intendendo con questo, un non battezzato, sia intendendo con questo, un battezzato che di fatto vive come un pagano, e oggi ce ne stanno quanti di voi, perché questi peccati non si fanno, è evidentemente, però, che se il giusto becca sette volte al giorno, cioè, noi abbiamo innumerevoli peccati, offese, mancanze, alcune ne vediamo, ci andiamo a confessare settimanalmente, ma molti altri, la maggioranza, no, ma non dobbiamo avere nessun dubbio che ci siano, in questo senso, siamo peccatori, ma questi, come penso che sappiate, cioè, un peccato veniale, diminuisce la grazia, ma non la toglie, raffredda la carità, ma non la nienta, un'imperfezione, o una negligenza, non fa nemmeno questo, non fa, cioè, la grazia non la fa aumentare, ma non la fa nemmeno diminuire, quindi, dobbiamo essere formati su queste cose, ora, Sant'Agostino, è stato un grande teorico della giustificazione, però, come sapete, come ricorderemo, abbiamo parlato, elabora questa dottrina in un contesto polemico, cioè, lui combatte, su questa dottrina, contro chi, ricordate, contro Pelagio, che diceva che il peccato originale è semplicemente un cattivo esempio, quindi, basta che io sia ben istruito, dopodiché, faccio le opere buone e queste mi metteranno il cielo e fine della trasmissione, no, non è così, perché, il peccato originale non è stato un cattivo esempio, ma qualche cosa che tu, ti ritrovi non soltanto le conseguenze di esso, ma te lo trovi appiccicato addosso, come se fosse tuo quando viene concepito, ci vuole un sacramento per toglierlo, ecco, quindi, Sant'Agostino spiega la natura della giustificazione è quella di essere un'azione salvifica, compiuta da Cristo e da lui comunicata, non è, non si può ridurre semplicemente alla imitazione di Cristo, l'importante è che qualcuno mi spiega quello che Gesù ha insegnato e quello che ha fatto, io lo prendo e lo rifaccio, ecco qua, fine della trasmissione, non servono salvatori, servono semplicemente persone che mi diano una bella istruzione e che io così possa seguire i buoni esempi di nostro Signore e fine del discorso, ma non è così semplice. ora, la causa unica della giustificazione, quindi, chi è? È Dio. Certamente che imitare è proprio dell'uomo, ma giustificare è proprio di Dio solo e lo ha fatto attraverso Cristo e il suo sacrificio. ancora, se è presatto Agostino e qui chiaramente anche a questo punto si risente della polemica, c'è un aspetto, ci sono due aspetti ma inseparabili l'uno dall'altro, è quello negativo della giustificazione, cioè la rimissione dei peccati, ma c'è anche l'aspetto positivo, cioè attraverso l'infusione della grazia inizia quel processo di divinizzazione dell'uomo perché la grazia è una reale comunicazione della vita divina in noi. Un graziato, quindi un giustificato, può diventare santo, tutti possiamo diventare santi, guardate che se qualcuno di noi santo non ci diventa, non è perché non poteva, ma perché non ha voluto, solo per questo. questo basti per quanto riguarda santo Agostino. Andiamo a vedere un attimo il grande San Tommaso che è come sempre fedele e puntuale nelle sue affermazioni. Allora, anzitutto la giustificazione secondo San Tommaso è il modo con cui l'anima umana è condotta da Dio dallo stato di peccato a quella della giustizia. Bellissimo questa cosa. quindi c'è una conduzione divina, non c'è un'iniziativa umana. È un'opera quindi esclusiva di Dio, però anche qui attenzione a non cadere negli altri estremi, quindi nell'eurosia opposta, è un'opera esclusiva di Dio, ma necessita la collaborazione dell'uomo. Perché tu assolutamente devi accogliere la grazia della giustificazione e dopodiché devi cominciare a cooperarci. ora Sant'Omaso scende nei dettagli penso che lui darà un pochino anche noi a me lo fece molto quando venne a conoscere queste cose dice come avviene la giustificazione? Senza dubbio il primo passo l'abbiamo visto detto e ripetuto lo fa Dio il presupposto del dono della fede che cosa fa? Cos'è la conversione di un peccatore? E' che Dio causa un moto quindi un movimento di conversione a lui nell'intelligenza. Ora qui interviene la volontà perché questo moto deve essere acconsentito attraverso il libero abito con cui si sceglie di ritrarsi dal peccato e volgersi al desiderio della giustizia. Questo non può farlo nessuno al posto di un altro nessuno. Prosegue Sant'Omaso la giustificazione può avere un tempo di riparazione anche molto lungo. un parroco che è stato per tanti anni parroco conosce queste cose sono persone che prima di andarsi a confessare fanno passare mesi anni a volte anche lustri anche decenni certo purtroppo ma è così. una buona volta che però il peccatore accoglie questa grazia la sua anima diventa candida come la neve e questa giustificazione produce contestualmente grazie all'infusione della grazia l'effetto negativo e l'effetto positivo quindi la remissione delle colpe e la santificazione del luogo. Ricordiamo bene queste parole se non diventiamo santi perché non abbiamo voluto. Ora dopo Sant'Omaso viene ovviamente Martín Lutero che abbiamo già detto avrebbe fatto della giustificazione il cuore della sua teologia appunto l'articolo Stantis Belcadentis Ecclesi. Ora sentite bene i capisaldi della dottrina luterana sulla giustificazione. Allora lui dice che la giustificazione dipende dal solo amore misericordioso di Dio e si attua per la sola fede dell'uomo senza alcun altro contributo. Secondo la giustificazione ha come effetto attenzione il dichiarare giusto il peccatore non farlo giusto se il peccatore è dichiarato giusto in virtù dei meriti di Cristo e del fatto che ha voluto salvare questa ovviamente è la condizio sine qua non però se non diventi giusto la famosa espressione di Lutero simul justus e peccato se allo stesso tempo è giusto è peccatore è peccatore perché quello era e quello rimane però è giusto perché il Signore lo dichiara tale quindi questa giustificazione non è una giustificazione sostanziale anzi non è proprio manco per niente una giustificazione perché ripeto il termine significa justum facere non justum dicere come diceva come diceva Lutero e quindi non diventando realmente giusti non si produce alcuna santificazione dell'uomo perché i luterani non danno culto ai santi perché i santi come noi li concepiamo non esistono sono tutti quanti i peccatori secondo loro tutti la Madonna ma no capite purtroppo quando si si svalvola un po' qui è intervenuto il Concilio di Trento famosissimo decreto sulla giustificazione che adesso ci andiamo un attimo a gustare e con cui chiudiamo questa nostra conversazione di oggi prendo il Densinger perché qui dobbiamo mandarci a gustare i passaggi al riguardo di quanto affermato in questo fondamentalissimo decreto è stato il primo è proprio incaricato di mettere le pareti e delle basi certe ferme in chiave appunto di combattimento dell'elesia cominciamo dal 1521 e 1522 cioè la giustificazione è opera di Dio attuata per mezzo di Gesù prima di tutto il santo sinodo dichiara che per una conoscenza esatta e integra della dottrina della giustificazione è necessario che ciascuno riconosca e professi che tutti gli uomini avendo perduta l'innocenza per la colpa di Adamo divenuti immondi e come afferma l'apostolo per natura meritevoli di ira come dice il decreto sul peccato originale erano fino a tal punto servi del peccato e in potere del demonio e della morte che non solo i gentili con le forze della natura ma neppure giudei con l'osservanza letterale della legge di Mosè il discorso che San Paolo ha fatto prima potevano esserne liberati e sollevati da tale condizione tuttavia in essi libero arbitrio non era affatto estinto come afferma l'utero pure questo dice scritto un'opera penso che si chiama deserto arbitrio ma solo attenuato e inclinato al male attenzione guardate che termini spettacolari attenuato vuol dire che certo la schiavitù del peccato appesa quindi non è che abbiamo una estrema facilità e disinvoltura nell'esercizio della libertà anche perché poi c'è una complicazione capitolo settimo ottavo della lettera di San Paolo sempre ai romani che il nostro libero arbitrio che se fossimo rimasti nello stato di natura integra sarebbe stato ordinato al bene cioè fare una cosa buona compiere un atto di virtù sarebbe stata la cosa più naturale e più facile del mondo adesso è diventato il contrario perché compiere un atto vizioso è la cosa più naturale e più spontanea del mondo perché libero arbitrio non è più inclinato al bene è inclinato al male inclinato al male vuol dire che non è obbligato al male non è come dire ineluttabilmente condannato a farlo sempre dovunque e comunque no in ogni caso da questa situazione vedete come il concilio ribadisce alcune cose che ci siamo già detti in termini autorevoli non è possibile uscirne senza la retenzione operata da nostro Signore numero seguente perciò il Padre Celeste Padre Misericordioso di ogni consolazione quando giunse la beata pienezza dei tempi mandò agli uomini Gesù Cristo suo figlio annunciato e promesso sia prima della legge sia durante il tempo della legge da molti santi padri affinché riscattasse i giudei che erano sotto la legge e i pagani che non ricercavano la giustizia raggiungessero la giustizia e tutti ricevessero l'adozione a figli questo Dio ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue chi? per i nostri peccati non soltanto per i nostri peccati ma anche per quelli di tutto il mondo chi è che sta per stabilire come strumento di espiazione lo sappiamo bene no? nostro signore Gesù visto ora nel numero 1524 c'è una bellissima definizione di che cos'è la giustificazione la giustificazione del peccatore cito Densinger 1524 ancora è il passaggio dallo stato in cui l'uomo nasce figlio del primo Adamo allo stato di grazia e di adozione dei figli di Dio per mezzo del secondo Adamo Gesù Cristo è il nostro salvatore facile facile passi dall'essere figlio di Adamo ad essere figlio di Cristo passi da essere schiavo di Satana ad essere servo di Cristo passi dall'essere figlio di Satana o figlio del peccato o figlio di maledizione come ti pare a figlio di Dio per l'adozione questo passaggio dopo l'annuncio del Vangelo perché l'annuncio del Vangelo è sempre il motore perché una persona possa essere giustificata deve chiedere il battesimo ma per chiedere il battesimo deve essere evangelizzata quindi deve avere un annuncio che gli dica guarda figlio mio che la realtà dell'uomo è questa e dinanzi a questa realtà che tu puoi constatare anche ripensando alla tua vita base all'esperienza oltre che alla ragione al buon senso tu non esci dai guai c'è bisogno di un salvatore e se vuoi ci sta lo vuoi il battesimo si lo voglio ecco qui quindi non potrà venire senza il lavacolo della rigenerazione dopo che ascolti la parola ti fai battezzare o senza il desiderio di ciò come sta scritto il desiderio di ciò un catecumeno che morisse prima di essere battezzato non va all'inferno perché essendo catecumeno quindi stanno in cammino per poter ricevere il battesimo essendo catecumeno non ho detto neocatecumeno il catecumenato era ed è quel percorso specialmente quando evidentemente si parla di adulti che un pagano deve abbracciare per giungere al battesimo un tempo in cui viene istruito un tempo in cui viene formato viene forgiato perché possa ricevere poi la grazia che il nostro Signore Gesù Cristo evidentemente molto volentieri gli dà ora secondo il Consiglio di Trento la causa finale della giustificazione quindi causa finale vuol dire a cosa tende il fine perché il Signore ci giustifica per la gloria di Dio anzitutto perché un peccatore è la negazione della gloria di Dio e per la vita eterna perché possiamo raggiungerla qual è la causa efficiente la causa efficiente è ciò che ha prodotto questa cosa cioè che l'ha resa che l'ha voluta e l'ha resa possibile abbiamo già visto la misericordia di Dio qual è la causa meritoria cioè chi ci ha meritato questo il nostro Signore Gesù Cristo la sua passione e la sua croce qual è la causa strumentale il sacramento del battesimo lo strumento per mezzo di cui questo si realizza e qual è infine la causa bellissima formale cioè quella che dà come dice il termine la forma a questo processo è la giustizia con cui Dio ci rende giusto e fa di noi creature nuove dice rende giusti fa di noi creature nuove tutto questo è sintetizzato dall'ultimo numero che leggiamo oggi del Densinger che è il 1529 stupendo denso bellissimo dice causa di questa giustificazione sono due punti causa finale la gloria di Dio e del Cristo e la vita eterna causa efficiente è la misericordia di Dio che gratuitamente ci purifica e ci santifica segnando e ungendo con lo Spirito Santo che era stato promesso il quale è caparra della nostra eredità causa meritoria è il suo dilettissimo unigenito e Signore nostro Gesù Cristo il quale pur essendo noi suoi nemici per il grande amore con il quale ci ha amato ci ha meritato la giustificazione con la sua santissima passione sul legno della rose e ha soddisfatto per noi Dio Padre questo fatto perdonatemi se mi fermo del soddisfare questo proprio Lutero non lo poteva neanche sentire nominare e con lui tutti quanti moderni luterali che sono i modernisti ah Dio che deve essere soddisfatto non c'è nessuna soddisfazione che soddisfazione come che soddisfazione certo che deve essere soddisfatto devono essere soddisfatte le esigenze della sua divina giustizia perché ogni peccato merita una pena e quella pena qualcuno l'ha da pagare chi la paga l'ha pagata il nostro Signore Gesù Cristo ecco perché quando una persona viene battezzata e guardate che è vero che il nostro Signore Gesù Cristo l'ha pagato però fate attenzione a tutte quante le cretinate che si sentono dire adesso ah ma io mi sono confessato che penitenza mi dai nessuna penitenza che te l'ha dovuto fare la penitenza il nostro Signore l'ha già fatta per te ecco le cretinate ah tu vorresti fare il digiuno ma che digiuno vuoi fare ha già sofferto il nostro Signore per te superbo che ti pensi che tu puoi aggiungere qualcosa alla passione del Signore sto facendo l'avvocato del diavolo proprio per far capire come queste cretinate però si insinano dentro il nostro cervello purtroppo attraverso la lingua di chi chiaramente è mosso dal nemico della nostra salvezza speriamo che lo sia in maniera inconsapevole speriamo ma queste sono falsità perché il bonus integrale viene dato una volta sola col sacramento del battesimo ma come hanno spiegato i santi dottori siccome Gesù Cristo è morto una volta sola non tante volte tu c'hai un bonus se dopo il bonus pecchi un'altra volta allora Gesù è morto una volta sola ma il suo sangue ha valore infinito quindi la misericordia e il perdono sono sempre possibili ma non la soddisfazione perché la pena per i peccati commessi dopo il battesimo in parte è diciamo così espiata dai meriti di Cristo ma con l'altra parte ce la devi mettere tu e non è un problema di misericordia di Dio oppure di andare a fare qua che il nostro Signore non ha sofferto abbastanza è un problema di giustizia guardate che su queste cose Dio non si smuove nemmeno di mezzo millimetro tu puoi crederci fa quello che vuoi ma qui non ci sono figli dell'oca bianca la legge è uguale per tutti questa qui ha soddisfatto per noi Dio Padre causa strumentale è il sacramento del battesimo cioè il sacramento della fede senza la quale nessuno ha mai ottenuto la giustificazione anche su questo punto Gesù ha detto andate in tutto il mondo annunziate il Vangelo ad ogni creatura che crederà e sarà battezzato sarà salvo e chi non crederà sarà condannato ha detto nel Vangelo di San Giovanni chi non rinasce da acqua e da spirito non ci entra nel Regno di Dio non può entrare e non può vedere il Regno di Dio il fatto che ci sia una possibilità di salvezza offerta a chi senza colpa ignora la necessità di essere battezzato e di fare parte della Chiesa che è una possibilità non così scontata non giustifica affatto una inerzia cioè noi ragazzi nel corso dei secoli dei millenni i missionari ci hanno andato a passare i guai di portare il Vangelo cioè hanno fatto dei sacrifici pazzeschi ci sono sradicati dalla propria terra andate in terre ignote molti ci hanno lasciato le penne in maniera cruenta con martiri terrificanti ma non è questa gente che ha fatto queste cose così secondo qualcuno di oggi ah vabbè ma tanto non fa niente se si battezzano una battezzata fa la stessa cosa tanto il nostro signore ti fa salvare lo stesso ma che insulto è tra le altre cose al sangue dei martiri allo zero dei missionari dicono una cosa del genere ma dico ma siamo stiamo fuori di testa stiamo infine unica causa formale è la giustizia di Dio non certo quella per cui egli stesso è giusto no come voleva in luterani ma quella per cui ci rende giusti infatti ricolmi del suo dono veniamo rinnovati nello spirito della nostra mente citazione di Efesini 4.23 e non solo e non solo veniamo attenzione considerati giusti ma siamo chiamati tali e lo siamo realmente ricevendo in noi ciascuno la propria giustizia nella misura in cui lo spirito santo la distribuisce singoli come vuole e secondo attenzione la disposizione e la cooperazione propria di ciascuno d'accordo? quindi l'efficacia della grazia e della giustificazione è condizionata pesantemente dalle disposizioni con cui tu raccogli e dalla tua cooperazione con la sua azione bene amici per oggi penso che possiamo fermarci la prossima volta andremo a vedere se Dio vuole il tema della grazia di Dio tanto per come dire chiudere con il consiglio con il consiglio di Trento alcune cose che abbiamo già visto e che ribadisce primo è contestuale la remissione dei peccati e la santificazione dell'uomo non sono due cose distinte poi l'uomo può e deve prepararsi e cooperare alla sua giustificazione qui volevo leggere abbiamo già letto qualche passaggio ma volevo un attimo ribadire gli uomini si dispongono alla giustificazione stessa per esempio quando stimolati e aiutati dalla grazia di Dio ricevendo la fede mediante l'ascolto si volgono liberamente verso Dio credendo ovvero ciò che è stato divinamente rivelato e promesso e specialmente che il peccatore è giustificato da Dio col dono della sua grazia in virtù della retenzione alleggiata da Gesù Cristo lo stesso fanno quando riconoscendosi peccatori per il timore della rivina giustizia che salutarmente discuote si volgono a considerare la misericordia di Dio si rinfrancano nella speranza confidando che Dio sarà il loro profizio a causa del Cristo e cominciano ad amarlo come fonte di giustizia e si volgono perciò contro i loro peccati odiandoli e detestandoli quindi capite quante cose che dobbiamo fare noi certamente mossi prevenuti e aiutati dalla divina grazia ma queste cose dobbiamo farle noi cioè l'odio del peccato la detestazione del peccato non sono sentimenti sono atti di volontà mi viene detto nella predicazione questa cosa è peccato io la faccio allora io da quel momento quella cosa la odio perché scelgo di odiarla la detesto perché scelgo di detestarla non è un problema di sentimento perché il sentimento ti porta a farla ancora perché ti piace ancora l'uomo giustificato dice sempre il consiglio di dento non solo può ma deve osservare i dieci i dieci comandamenti per forza gli uomini giustificati e divenuti amici e familiari di Dio si rinnovano di giorno in giorno cioè mortificando le membra del proprio corpo e offrendole come strumento di giustizia per la santificazione mediante l'osservanza dei comandamenti di Dio e della Chiesa crescono nella stessa giustizia ricevuta per la grazia di Cristo perché la fede coopera alle buone opere e così essi divengono sempre più giusti quindi vorendo proprio sintetizzare in conclusione la giustificazione è opera di Dio attuata attraverso Cristo in un essere intelligente e libero che può accoglierla opporre un rifiuto una volta ottenuta non opera in modo meccanico ed irreversibile ma necessita della continua cura da parte del giustificato proprio perché la grazia si può perdere a fare un peccato mortale e più questi peccati si moltiplicano più difficile poi diventa recuperarla bene stavolta abbiamo chiuso sul serio siamo notati Gesù e Maria che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga grazie a tutti a tutti grazie a tutti